Sono IT Manager e gestisco una piattaforma IT complessa e voglio avere sempre tutto sotto controllo e liberarmi dai problemi di malfunzionamento. Ma la tecnologia da sola non basta, ci vorrebbe una tecnologia umana. Ma chi mi aiuta? La soluzione al tuo problema si trova in TT Tecno Sistemi e si chiama HP Pro Active Care. TT Tecno Sistemi collabora da 30 anni con HP ed oggi siamo partner HP con il più alto livello di certificazione. La soluzione HP Pro Active Care ha una componente tecnologica l'IRS ovvero Insight Remote Support ed una componente umana costituita da un Technical Support Specialist e un Technical Account Manager. Come prima operazione ti assistiamo nell'installare l'IRS direttamente nella tua azienda e controlliamo da remoto con costanza lo stato di salute della tua infrastruttura IT. Così possiamo prevenire e gestire immediatamente eventuali malfunzionamenti. Tutto sarà sempre sotto controllo. In caso di malfunzionamento l'IRS ci avvisa immediatamente. Ti assegniamo subito un Technical Support Specialist che collabora con te dall'inizio alla fine per la diagnosi e la risoluzione di ogni situazione. Quindi ti liberiamo dai problemi dovuti al mal funzionamento. HP Pro Active Care prevede anche che ti venga assegnato un Technical Account Manager che esamina la tua piattaforma. Analizza i report trimestrali sullo stato dell'infrastruttura e ti fornisce periodicamente delle valutazioni per aiutarti ad ottimizzarne la gestione. Ok, mi ha convinto! Per saperne di più collegati a questo mini sito o contattaci E qualun'I associate i nostri servizi in o e o o Grazie per la visione!